Presidente, Milano-Padova non si gioca e ci spiega per favore le ragioni che hanno portato a questa decisione? Sembrerebbe che si fosse verificato dal medico nostro e non da quello di Padova che non era presente oggi che alcune persone, qualcuno fra giocatori e fra allenatori o fra dirigenti, questo non lo posso dire perché non lo conosco e non so neanche se fossero solo nostri o solo degli avversari o di tutte e due le squadre che la temperatura basale, non so come si chiama, era certamente superiore a quanto consentito a questo punto è emerso che lui non si prendeva la responsabilità di fare questa operazione perché essendo come sembra di che questo decreto, io non l'ho letto ma mi hanno fatto vedere l'articolo che è lui responsabile dell'operazione, quindi è andato dagli arbitri, ha spiegato la sua versione e gli abiti hanno messo a verbale la situazione, quindi per questo motivo non si gioca questa sera con molto dispiacere Ma chiederete che la partita venga recuperata, cosa succederà da domani in poi? Insomma io mi auguro che domani, tanto per cominciare, la Lombardia non si chiuda come si sta chiudendo mi auguro che emergano che le mie aziende possano ancora trasportare i prodotti fuori dalla Lombardia Mi auguro che ci sia un po' più di ordine nei decreti, nelle regole, nelle regolamentazioni perché ovviamente in questo momento siamo un po' in alto mare tutti quanti Nella qualcosa c'è anche la polavolo, domani c'è una consulta straordinaria di tutti i soci alle ore 17 quindi tutte le società di Superlega che decidono cosa fare nel proseguo del campionato E' ovvio che viene prima la salute, poi ci sono posizioni contrarie, è ovvio che viene prima e qualcuno ha pensato anche a CP che ogni partita che io perdo l'incasso me lo gioco se gioco a porte chiuse, pensa oggi che disastro sarebbe stato economicamente ma non cambia, ormai il disastro ce l'abbiamo uguale, siamo qua, non giochiamo per un problema di salute E' ovvio che siamo tutti in attesa di prendere una decisione che dobbiamo prendere Io credo che domani, anzi da oggi, la Superlega femminile di A1-2, la Lega femminile di A1-2 ha sospeso i campionati, il basket ha sospeso i campionati, immagino ma questo sembrerebbe un po' troppo malizioso che stasera dopo Juve e Inter sospendano anche il campionato di calcio e sono state sospese la Milano-Sanremo, io da tifoso di ciclismo oltre che di polavolo mi è molto dispiaciuto è sospesa la Tireno Adriatico, sono sospese il Salone a Ginevra, il Salone delle Auto è sospesa la Maratona di Parigi, sono sospese un sacco di cose che ovviamente dalle quali noi non siamo esenti cioè noi dobbiamo pensare prima di tutto alla salute delle persone, al benessere e soprattutto ad avere una credibilità la credibilità ce l'abbiamo se rispettiamo le regole, se siamo attenti più degli altri a fare le cose che abbiamo sempre fatto cioè la salute prima di tutto Se il campionato dovesse andare avanti però mercoledì c'è Vibo Milano, Milano cosa fa in questo caso? A tutti gli effetti noi abbiamo già comprato i biglietti, sarebbe la terza volta che compriamo i biglietti per Vibo una prima volta dovevamo giocare di domenica, una seconda volta li abbiamo anticipati al Salto per esigenze televisive poi questa partita è stata spostata a mercoledì, noi i biglietti ce li abbiamo se domani non viene sospeso il campionato noi saremmo a Vibo a giocare fermo restando che anche là devono esistere le stesse condizioni che abbiamo qua sempre che ci accettino, perché in effetti in questo momento sembra che i milanesi, i lombardi, i bergamaschi siano degli appestati e quindi io immagino che non sarà così immagino che noi abbiamo un sistema sanitario molto buono io vivo negli Stati Uniti e quindi so benissimo e perfettamente che noi abbiamo cercato i malati mentre invece negli Stati Uniti quando li scopriranno, li scopriranno milioni solo che non ci va nessuno perché mentre da noi è tutto gratis, la costa da 450 a 2.000 a 3.000 dollari per ogni verifica è evidente che se uno non ha l'assicurazione non se lo può permettere ed ecco perché non li trovano, noi siamo molto efficienti, siamo molto bravi, ce li siamo cercati, li abbiamo trovati i provvedimenti devono essere più chiari possibile perché se no domani mattina in azienda che cosa faccio, che cosa dico verranno le persone, non vengono, chiudo l'azienda, le porto avanti, le merci potranno uscire dal Lombardia oppure no potranno entrare gli aranci che Milano non produce, certamente, sto dicendo delle stupidate ma in realtà è quella la cosa, dovranno chiarire se uno da Trieste a Torino può attraversare la Lombardia o meno o deve passare attraverso il Congo belga e arrivare qua, insomma e arrivare a Torino